È stata inaugurata la nuova sede per gli anziani di Montalto di Castro. L'amministrazione comunale ha realizzato il sogno dei soci del centro che da anni attendevano un nuovo posto di ritrovo per le loro attività. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Sergio Caccia, agli assessori Mezzetti e Sacconi, al comandante dei carabinieri Sebastiano Zampone, erano presenti tutti gli anziani che hanno partecipato con gioia alla prima della loro nuova sede. Il presidente degli anziani, Aglio Ciavattini, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, chiedendo un sempre maggiore impegno economico dell'amministrazione a sostegno del centro. Dopo la benedizione del padre Marcello della parrocchia di Santa Maria Assunta, uno dei soci del circolo, Marino Fracassi, ha consegnato una lettera di ringraziamento al sindaco per il grande gesto che servirà a migliorare la qualità di vita degli anziani del paese. Sono qui oggi, scrive Fracassi, con lei per condividere il piacere del nuovo centro di urna anziani che altri sindaci potestà degli anni 80 al 2012 sempre promisero senza mai concedere. E a questo proposito credo che la scelta da lei fatta sulle persone che dovranno tutelare gli anziani nelle loro necessità sia la migliore. Sono cominciate oggi a tolfa le finali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento e il paese collinare è stato invaso dalle migliori menti giovani d'Italia. Stasera verranno proiettati al Claudio i corti realizzati dalle 34 squadre finaliste, domani si terranno le altre prove. A fine giornata ci saranno le premiazioni particolari nelle nostre interviste. Io devo dire che i progetti che poi accoglie la Fondazione sono decisamente sempre, dal punto di vista della Fondazione, sempre importanti. Questo è un progetto indiscutibilmente particolare, particolare ma valido al momento stesso. Noi siamo intervenuti su richiesta in ritardo, questa è la nostra terza edizione che facciamo. Mi sembra che dopo la prima edizione siamo intervenuti noi e debbo dire abbiamo visto anno dopo anno un aumento della qualità e della quantità. Ci troviamo di fronte, io ho visto al Traiano tantissime persone che erano presenti, provenienti da tutte le parti d'Italia. Quindi è una cosa molto bella, una cosa significativa, ha avuto un grosso successo e quindi sicuramente su queste basi noi dovremmo continuare a sostenere la cultura, perché questa è cultura, sperando che sempre di più la nostra zona sia privilegiata anche in questo tipo di concorso e dia l'esempio concreto di quanto nel nostro territorio si tenga alla cultura in senso lato. Anche quest'anno è una straordinaria edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, Tolfa che diventa un campus all'aperto e che si apre tra l'altro a frontiere internazionali, visto che abbiamo anche presenze dall'estero. Siamo veramente molto contenti, il Comune di Tolfa ha organizzato l'ospitalità al meglio, ma soprattutto c'è questo clima straordinario di amicizia, condivisione e di voglia di divertirsi e stare insieme all'insegna della cultura e del talento. Sì, oggi veramente è un inizio con i fiocchi, un inizio straordinario, abbiamo avuto questi 200 ragazzi che fin dalle prime ore del mattino hanno invaso un po' il nostro paese, ma soprattutto poi hanno espresso con le loro qualità, la loro intelligenza, la loro preparazione veramente un confronto e una competizione di altissimo livello. Credo che ormai le Olimpiadi della Cultura possano rivendicare il titolo di essere il più importante evento a livello di competizione giovanile. Raccogliamo oggi oltre 200 giovani, ma se ne raccolgono durante l'anno quasi 7.000. Quindi credo che ci sia una partecipazione di massa, ma al tempo stesso ci sia poi la capacità da parte degli organizzatori di saper selezionare nella maniera più giusta e soprattutto mettendo in risalto tutte le qualità di questi ragazzi, i migliori talenti che ci sono in Italia. E questo è anche un messaggio verso una situazione sicuramente difficile da un punto di vista economico, ma di grande prospettiva perché ci dà la consapevolezza di avere in Italia sicuramente dei ragazzi che hanno qualità e spessore culturale in grado di poter fronteggiare questa situazione e soprattutto di esprimere qualcosa di importante e di positivo per il futuro. Dall'organizzazione quest'anno anche si è trovata molto bene con i ragazzi, non ci sono stati nessun grosso problema. La commissione è anche stata molto stupita favorevolmente dalla preparazione dei ragazzi. Quest'anno la nuova commissione di docenti per un turnover per garantire anche la limpidezza della giuria e visto che due anni ha vinto la stessa squadra. Abbiamo cambiato i docenti, sono tutti docenti e professori universitari e molto contenti anche della preparazione appunto dei ragazzi. Dal punto di vista organizzativo, come dicevo, tutto è filato liscio e ci avviamo domani alla fase conclusiva con la premiazione e la grande prova talento attesa sia dai ragazzi che dal comitato e dalla giuria. Edizione senza precedenti per la festa della Merca, organizzata nel weekend dall'Università Agraria di Tarquinia. Una marea umana invaso alla Roccaccia con numeri da record, ben 5.000 le presenze nella sola giornata di domenica e 7.000 le presenze totali, 1.500 i bambini che hanno partecipato alle attività a loro dedicate. Oltre 70 gli asini in rassegna, 150 i cavalli impegnati nelle attività equestri, 80 i cani che hanno partecipato alla mostra cinofila e al memorial Luigi Cepparotti. Una ventina i fotografi accreditati. Pullman interi provenienti da Umbria, Lazio e Toscana e presenze da tutta Italia. E ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità e a seguire la nostra consueta pagina dello sport.